La formazione di serie di girone H, vediamo lettura delle formazioni in campo. La formazione di serie di girone H, vediamo lettura delle formazioni in campo. La formazione di girone H, vediamo lettura delle formazioni in campo. La formazione di girone H, vediamo lettura delle formazioni in campo. La formazione di girone H, vediamo lettura delle formazioni in campo. La formazione di girone H, vediamo lettura delle formazioni in campo. La formazione di girone H, vediamo lettura delle formazioni in campo. La formazione di girone H.bediano. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.